RS nero permette di rinnovare facilmente e velocemente le vernici nere di auto e moto d'epoca e di bloccare la ruggine contemporaneamente. Un intervento rapido e economico ma di lunga durata d'effetto molto conveniente, senza necessità di bonificare le parti prima dell'applicazione. La finitura dopo l'assorbimento è termoresistente e verniciabile che non si stacca come una vernice. Grazie per la visione! Grazie per la visione!